Grazie a tutti di essere venuti. Abbiamo come nostri ospiti il dottor Vito Zincani, che è il procuratore capo di Modena. A Bologna ha legato il suo nome all'inchiesta della strage del 2 agosto, in qualità di giudice istruttore ha firmato la sentenza ordinanza di rinvio a giudizio a carico dei neofascisti che poi sono stati condannati. A Parma invece ha ricoperto il compito di procuratore per tutta la durata dell'inchiesta del crack Parmalat e l'ultimo incarico come procuratore generale della Corte d'Appello di Bologna l'ha visto sostenere l'accusa nel processo ai brigatisti per l'omicidio Biagi. Petrareschi invece è corrispondente nostra autrice, è corrispondente per Die Zeit e per molte altre testate tedesche. è arrivata in Italia nel 1989 per descrivere quella che era la primavera di Palermo e ha deciso di rimanervi, come dice lei stessa, per comprendere quelle che sono le contraddizioni di questa terra. In Germania nel 2008 è stata eletta miglior giornalista dell'anno nella categoria reporter proprio a seguito della pubblicazione di questo libro e in Italia per il suo impegno al servizio dei grandi valori del giornalismo ha ricevuto a nocere inferiore il premio Civitas 2009 da parte dell'Associazione Ande che premia le donne di stintesi per il loro impegno nella lotta alla mafia e di recente a giugno ha vinto la Malfi Coast Media Award il premio internazionale per il giornalismo in una serata che è stata trasmessa su Rai 1. Il libro che è Santa Mafia è questo, è stato pubblicato da Nuovi Mondi e vorrei partire con una domanda a Petra poi immediatamente dopo al dottor Zincani. In un'intervista al Corriere della Sera pubblicata da Iodonne e poi ripresa appunto nella quarta di copertina Petra dice se andiamo avanti così in pochi anni l'andrancheta si mangia la Germania e nel suo libro che è un viaggio metaforico attraverso personaggi dalle incontrate ma anche reale nel senso di risalita dell'Italia dalla Sicilia fino alla Germania ha individuato un momento spartiacque, una data storica importante che è quella che corrisponde alla strage di Duisburg nella strage di Ferragosto nell'agosto del 2007 quando di fronte al ristorante e alla pizzeria da Bruno furono ritrovati crevellati da 70 proiettili i cadaveri di 6 uomini tutti calabresi. Da quel momento la Germania è parsa accorgersi di un fenomeno chiamato mafia che non era più forse legato a una storia di folcloristica di coppole e doppiette in questo senso. Ha segnato veramente, questa è la domanda in Germania, una presa di coscienza del fenomeno mafioso anche in terra non italiana? Io mi augurerei che fosse così però purtroppo devo dire dopo il primo shock è passato molto velocemente in Germania lo stupore di quello che è successo perché la mafia come ovunque anche qui credo al nord dell'Italia esiste solo quando ci sono i morti, finché non ci sono i morti la mafia non esiste, questa è la stessa cosa in Germania. Dunque per un breve momento si sono accorti dell'esistenza della mafia però si tratta come spesso di una specie di fenomeno di rimozione collettiva che io ho osservato sia in Germania che in Italia che in Germania era molto facile per i tedeschi di dire beh alla fine era una cosa che riguardava gli italiani perché si sono ammazzati tra di loro sei italiani, non c'era un tedesco coinvolto dunque potevano sempre pensare, quello che hanno sempre pensato e che lo pensano tuttora che la mafia fosse solo un fenomeno italiano e in particolare che riguarda alcuni paesi arretrati del sud dell'Italia come la Sicilia, la Calabria e non Duisburg, Erfurt, Monaco, Stocarda, tutti i centri che sono come lo sa la polizia tedesca benissimo che risulta di tutti i documenti della polizia del BKA in Germania, dei rocaforti in particolare dell'Andrangheta in Germania. Io ho cercato con il mio libro di svegliare un po' le conoscenze dei tedeschi perché credo finché l'Europa non si renda conto che la mafia non è solo un problema italiano, la mafia non potrà mai essere combattuta incluso anche gli altri paesi non solo la Germania ma anche l'Olanda dove è stato arrestato Giovanni Strangio, uno dei killer dell'attentato di Duisburg assieme con il suo cognato Francesco Romeo che ovviamente sono stati arrestati lì, non erano gli unici che si sono fermati, che vivevano tranquillamente in Olanda e anche la Francia e anche la Spagna, lo sanno i magistrati italiani meglio di me. Finché non in Europa non si rendono conto che non è che la mafia esiste quando c'è un attentato, quando c'è una strage come quella di Duisburg, ma la mafia esiste soprattutto in questo momento di crisi economica, per esempio sono i mafiosi gli unici che hanno soldi in contanti che possono comprare, investire anche in imprese per esempio che sono in difficoltà, dunque è un momento molto cruciale per la lotta contro la mafia. Infatti sempre a questo riguardo, infatti volevo chiedere al dottor Macri se il punto di vista di Petrareschi è più europeo, nel senso la mafia che ha varcato i propri confini ed è arrivata fino in Germania, in Olanda, in Francia, sono di recente, una notizia di aprile di quest'anno per esempio l'arresto a Modena di un gruppo camorristico legato al clan dei Casalesi che si era infiltrato da vent'anni nella provincia di Modena e gestiva un giro tra bische e circoli privati, eccetera. La domanda era questa, quali sono e quanto sono profonde per esempio le infiltrazioni della criminalità organizzata che un cittadino comune probabilmente non si aspetterebbe in una cittadina tranquilla o apparentemente tranquilla e sicuramente ricca come per esempio Modena. Devo premettere che nella presentazione è stato fatto riferimento solo al mio curriculum giudiziario ma io sono anche docente di criminologia all'Università di Bologna e uno degli argomenti di studio che da molti anni seguo è proprio quello del crimine organizzato. In un testo da me redatto ancora più di vent'anni fa già si faceva riferimento alla mafia imprenditrice, ovvero viene percepito in realtà da chiunque si occupi del fenomeno mafioso che la mafia non è più legata al feudo, non è più la mafia neppure dell'edilizia e del sacco di Palermo. Oggi la mafia è un imprenditore, anzi un insieme di imprese che hanno relegato soltanto a livello estremo l'applicazione di metodi criminali alla soluzione dei conflitti. Ovvero il valore competitivo del metodo mafioso sta che è un valore aggiunto di competizione imprenditoriale che viene usato quando non ci sono altri modi per risolvere problemi. Di qui allora il ricorso all'intimidazione, anche al delitto, ma man mano che si dilata il potere economico delle diverse organizzazioni criminali diminuisce il tasso di criminalità percepito. Perché c'è sempre meno bisogno di uccidere, di intimidire, in quanto è sufficiente lo strumento della leva finanziaria. Anzi, negli ultimi anni assistiamo a un ulteriore passaggio, quello della finanziarizzazione, ovvero la mafia non è più soltanto un'imprenditrice ma è un grande potere finanziario. Sfugge all'osservatore comune, ma non agli studiosi, un dato contabile, una stima molto accurata per difetto che era stata fatta nel 94 dall'Università di Bologna ha stimato in circa 100 miliardi di euro il fatturato di Cosa Nostra soltanto in Italia. Ora voi comprendete da questa cifra che probabilmente è raddoppiata nel frattempo che l'intervento del crimine organizzato nell'economia è sempre più di tipo internazionale ed è sempre più di tipo finanziario. ovvero è inevitabile che la gestione delle risorse economiche limitate che aveva il crimine organizzato agli inizi, nell'immigratto dopo guerra, potesse essere affidato a libretti al portatore, intestati a nomi di fantasia molto gentili, in genere nomi floreali, Violetta, Margherita, eccetera. Quando la massa di denaro è diventata molto grande, dopo il sacco di Palermo, dopo la trasformazione della mafia rurale in mafia dell'edilizia, è stato necessario avere i banchieri di riferimento. La storia ci dice che prima è stato Sindona, poi Calvi. E già con il Banco Ambrosiano la finanza mafiosa si era saldata ad altri poteri finanziari. Ma c'è stato un ulteriore passaggio. Attualmente la massa di denaro gestita è talmente enorme che neppure una sola banca potrebbe gestire, anzi la sicurezza del sistema era proprio legata al fatto che nessuna impresa potrebbe avere un unico banchiere e nessuna banca potrebbe avere un unico cliente. Di qui il processo della trasformazione in una miriade di società finanziarie prevalentemente collocate nel sistema offshore che ormai è denaro senza padrone, incontrollabile. Ma voglio darvi un'ulteriore notizia che forse apre uno squarcio ancora più inquietante. Fino a 20 anni fa questo tipo di investimento finanziario era occasionale, ovvero l'imprenditoria mafiosa non potendo reimpiegare tutto il denaro in attività illecite, facciamo un esempio semplicissimo. Se commercio in droga e guadagno 100 milioni di euro non le rinvesto tutto il rischio di droga, me ne bastano 10 milioni per ricomprare la stessa quantità di droga, gli altri 90 milioni devo reinvestirli. Allora per molto tempo l'investimento è stato occasionale, ovvero trovavo un'impresa in crisi o indirettamente attraverso l'usura o direttamente proprio comprando sul mercato, uno dei meccanismi è stato l'affitto d'azienda che mi dava il privilegio poi nell'acquisto, un diritto di prelazione sull'acquisto. Oppure compro una pizzeria, oppure faccio del riciclaggio immobiliare, cioè facendo investimenti, pensate Montesilvano, città da cui io provengo, io sono nato a Pescara, ha 30 mila case invendute, continuano a costruire, il problema non è vendere, è comunque trasformare denaro, in ogni caso sta lì. Oggi però abbiamo un altro problema, l'investimento oggi è strategico, cioè quando la massa di denaro da investire è divenuta enorme, si comprende che non può essere investito così all'occasione, ma è necessario una strategia di investimento. Bene, la strategia di investimento è stata individuata in alcuni settori chiave, che sono l'editoria, l'alta tecnologia, la ricerca scientifica, le telecomunicazioni. Perché? Perché ciò che si propone oggi il potere mafioso è il controllo del potere to cure, ovvero attraverso il controllo dell'informazione, attraverso il controllo della tecnologia legata alle comunicazioni, attraverso il controllo di settori strategici, in realtà io controllo tutti gli altri poteri. Questo però non avviene in modo palese. Nessuno potrebbe dire che dietro un grande gruppo editoriale esiste un potere mafioso. È un'affermazione destituita di fondamento. Esistono grandi gruppi finanziari, ma che attingono i loro capitali dal mondo finanziario. Dunque, una volta che il denaro di provenienza mafiosa sia divenuto denaro senza padrone, che naviga attraverso il circuito offshore, esso perde ogni colore. È denaro e basta. Quindi, diciamo, la saldatura del potere criminale col potere finanziario impedisce la identificazione stessa di quel potere come mafioso. Sarebbe immediatamente denunciato e querelato chiunque osasse affermarlo, dal momento che non esiste nessuna possibilità di dimostrazione di questo. Ed è altrettanto vero, e concludo, che tutto questo non riguarda un solo paese. Altrimenti non funzionerebbe. Riguarda l'intero sistema mondiale. Naturalmente ci sono dei paesi da cui si parte perché sono più deboli o perché storicamente già fortemente infiltrati e man mano si tende ad espandere. Ma l'espansione internazionale è una deriva inevitabile e presente. Aggiungo, e passo la parola ad altri, che tutto questo è perfettamente comunque conforme alla natura proteiforme del potere mafioso. Ovvero il potere mafioso, risponde alla domanda della nostra intervistatrice, si adatta al sistema di aderenza. Ovvero ha una natura di tipo mimetico, per cui non ha un connotato tipicamente definibile e invariabile. Quindi la mafia in Modena è modenese. Si mimetizza secondo gli schemi della società modenese, agisce secondo i metodi imprenditoriali modenesi. A Duisburg assumerà connotati diversi, a Palermo diversi ancora. Io volevo agganciarmi a quanto appunto appena ha detto il dottor Zincani per chiedere a Petra quali sono i connotati della mafia Duisburg. Tu l'hai sentita anche sulla tua pelle perché questo libro, nell'edizione originale, e anche noi abbiamo voluto riprendere questa scelta, è stato soggetto a intimidazioni, ma soprattutto a due processi. È stata querelata appunto Petra da due esponenti della mafia tedesca che l'hanno portato ovviamente in tribunale. Non ultimo, un'intervista rilasciata settimana scorsa da De Lutri su Libero che definisce appunto, riferendosi alla prefazione di Vincenzo Macri che è procuratore nazionale antimafia, ha detto che un procuratore che fa questo riferendosi al fatto appunto che avesse scritto la prefazione, l'introduzione al libro avala sicuramente queste falsità allucinanti contenute nel libro di Petra Areschi e questo l'ha detto Marcello Del Lutri che vi ricordo è stato condannato in primo grado a nove anni per concorso esterno di un'associazione mafiosa. Ovviamente si aspettano gli altri gradi di giudizio, però questo è. E volevo chiedere a Petra appunto, questo libro in Germania è stato oggetto oggetto di processi e intimidazioni e vorrei che tu ci raccontassi che cosa è successo, sia col pubblico, quindi cosa è successo durante le presentazioni e il pubblico che in tribunale, di fronte a questi due personaggi quantomeno di tanti. Io sono nata vicino a Duisburg, dunque io conosco anche la zona molto bene e diciamo nel giro di un mese dopo l'uscita del mio libro l'ho trovato molto interessante quello che ha detto il procuratore a proposito del controllo dell'opinione pubblica perché questa è una cosa che mi tocca direttamente come giornalista e lo trovo molto importante e l'ho molto notato anche in Germania questa volontà di controllare l'opinione pubblica. Dunque il mio libro è uscito l'anno scorso in settembre in Germania in un momento abbastanza cruciale per la mafia in Germania perché loro volevano tutto per tornare nell'invisibilità nella quale hanno vissuto benissimo per 40 anni dunque far capire ai tedeschi che la mafia non esiste. Se uno chiede a un mafioso ed è stato uno dei due protagonisti di quelli che mi hanno correlato è stato chiesto da un giornalista tedesco cosa dice dell'esistenza della mafia lui ha detto che la mafia non esiste in Germania esiste solo in Calabria e loro volevano soprattutto far capire questo che la mafia non esiste e tra l'altro uno dei due protagonisti che mi ha fatto la causa Antonio Pelle dunque vi ricordo solo il nome del clan Pelle Romeo che è stato uno dei due clan che è stato coinvolto nel massacro di Duisburg allora Antonio Pelle che è un albergatore lui è proprietario di questo albergo a Duisburg nel quale ha soggiornato la squadra nazionale del calcio italiana all'epoca dei mondiali e questo Antonio Pelle praticamente nello stesso periodo ha pubblicato anche un libro con il titolo nato a San Luca e in questo libro ovviamente è stato scritto da un ghost writer tedesco lui fa descrive la storia molto commovente dell'immigrato italiano che viene in Germania che non vuole altro che crearsi una esistenza in Germania e veniva sospettato di essere mafioso che l'unica colpa che avrebbe sarebbe quella di essere nato a San Luca bisogna essere chiaro anche che se uno rimprovera un tedesco di razzismo questo è il punto debole ovviamente dei tedeschi dunque se un italiano dice ma l'unica mia colpa è essere italiano essere nato a San Luca allora subito i tedeschi si ritirano e non hanno più il coraggio di dire qualcosa a proposito dell'esistenza della mafia in Germania dunque questo solo per spiegarvi nel clima dunque non era un buon momento per loro che è uscito il mio libro facendo i nomi dei protagonisti della mafia in Germania e loro si sono rivolti ai giudici per proteggere praticamente la loro privacy perché in Germania è molto facile questo anche se un giornalista cita dei nomi da documenti giudiziari finché questa persona non è stata condannata in Germania non ha il diritto dipende sempre dal giudice ovviamente però c'è una forte probabilità che vieni condannato e così fu in quel momento quando sono andata a Erfurt dunque la mafia in Germania in particolare l'Andrangheta ha investito la sua rocaforte come diceva Duisburg in tutta la regione della Ruhr perché sono venuti negli anni 60 lì come tutti gli immigrati italiani e non solo nella regione della Ruhr ma anche vicino a Stoccarda e poi anche a partire dalla caduta del muro hanno investito nella Germania dell'est in particolar modo a Erfurt a Leipzig a Eisenach in Turingia e in Sassonia e allora io c'era uno scambio di lettere tra l'avvocato della mia casettrice tedesca e questi personaggi spattacopitanti Antonio Pelle e quando sono stata a Erfurt che è una rocaforte dell'Andrangheta in Germania tipo una specie di San Luca tedesco come ho dovuto scoprire poi spattacopitanti e gastronomo a Erfurt e nelle altre città vicino allora davanti alla porta di quella libreria in cui volevo presentare il libro c'era un'uscita del tribunale di Monaco che mi ha dato una lettera nella quale era scritto che io non ho più il diritto di dire quello che ho scritto su spattacopitanti che adesso oggigiorno nella versione attuale che viene distribuita è tutto in nero dunque psicologicamente non era molto bello questo se uno è lì c'erano cento persone che mi aspettavano per presentare questo libro non era molto bello psicologicamente di avere questa lettera immediatamente prima comunque dentro c'era un presentatore che in Germania non è che per forza si usa questo così allora oggi è così e sempre ogni volta quando lo vedo aspetto che il mio dito rimanga nero quando passo sopra e dentro c'era un moderatore che mi aspettava e la prima cosa che mi ha detto io sono un buon amico rispetto a copitanti allora ho detto sì sono contenta e lui diceva tutto ciò che lei ha scritto è falso mi ha detto ma se lo dice lei io dopo in questo momento volevo dire ancora a lui se a lei non piace il mio libro a lei ha il buon diritto di dirlo e di rinunciare a presentare il libro lo posso anche fare da sola però erano due minuti prima delle otto non potevo più senza essere troppo maleducata e lui mi diceva io lui mi diceva ancora ho tanti amici a Napoli ho detto anche io e questo era l'inizio della presentazione allora dopo io ho letto un pezzo del libro che parla proprio in particolar modo di San Luca di come perché la Drangheta in particolar modo vuole investire in Germania perché ci sono certe debolezze legislative certe lancune che permettono questo di di far di rendere il riciclaggio molto più facile che in Italia per esempio il fatto che non c'è associazione mafiosa in Germania è la prima cosa poi intercettazioni sono molto più difficili che in Italia fino ad ora finché non passerà questa legge e poi la cosa fondamentale è che in Germania è così quando uno investe i soldi è la polizia che deve dimostrare che questi soldi provengono che sono soldi leciti e non l'investore come qui in Italia dunque è molto più facile per un come dicono tanti poliziotto che mi hanno raccontato tantissimi casi di pizzaioli che guadagnano 800 euro al mese dopo si comprano per 3 milioni tutto un immobile e quando la polizia chiede dove vengono questi soldi loro dicono se mai dicono qualcosa dicono dal mio zio in Calabria basta oppure dicono anche nettamente io non devo dirglielo quello che è vero dunque io ho spiegato un po' quanto è facile riciclare soldi in Germania quello che mi hanno detto ovviamente tutte le informazioni dei magistrati sia italiani che tedeschi e alla fine della mia lettura c'era un diceva questo moderatore che era il buon amico di Spatacopitanti diceva beh a me non è mai successo di essere controllato per i soldi dunque io non credo quello che lei ha scritto qui e questo mi sembra tutto inventato dopo c'era nel pubblico c'era un altro signore che apparentemente con un po' di conoscenze giuridiche faceva un altro discorso secondo il quale anche era impossibile riciclare soldi in Germania dopo c'era anche il sindaco di Erfurt che era sindaco anche nel tempo cruciale in cui dopo la caduta del muro sono stati investiti tantissimi soldi a Erfurt e lui evidentemente ha chiuso gli occhi come tanti tedeschi a proposito perché gli investimenti dell'Andrangheta erano anche benvenuti dopo la caduta del muro in Germania e lui mi ha attaccato perché lui è stato protagonista di un documentario sulla mafia in Germania in cui lui ha detto beh allora la mafia bisogna combattere la radice dunque in Italia e non in Germania una concentrazione abbastanza audace come trovo e lui mi incolpava di essere l'ideatrice di questo film e io ho detto però la mi sopravvaluta un po' perché non ho niente da fare con questo film che avevano fatto i colleghi e noi siamo arrivati agli stessi risultati e questo era il momento in cui qualcuno si è alzato era un italiano che perfettamente bene in tedesco faceva un lungo discorso in difesa a Antonio Pelle e Spatacopitanti che sono secondo lui sono niente altro che bravi gastronomi uomini di affari imprenditori italiani di successo in Germania ai quali io ho offeso e dei quali io ho offeso l'onore e tutto culminava nella frase che lui ha detto ammiro il suo coraggio signora ammiro molto il suo coraggio ammiro moltissimo il suo coraggio signora Reschi e questo era il punto apparentemente come un segnale io ero come adesso sotto la luce gli altri nel buio dunque non potevo più o meno potevo vedere però non potevo vedere chi veramente parlava e c'erano gli altri italiani che erano lì una ventina che mi insultavano come mafiosa in italiano perché loro non parlavano neanche tedesco era la manovalanza dell'andrangheta di Erfurt i tedeschi che erano presenti erano lì erano molto scioccati erano un po' animali che sentono che c'è un pericolo però non sanno da dove viene questo pericolo e io avevo capito benissimo cosa significa se loro hanno il coraggio di attaccare una giornalista tedesca in Germania con questa spurratezza questo era come essere a San Luca o a Colleone e a San Luca e a Colleone non avrebbero mai avuto il coraggio di farlo poi alla fine del dopo c'erano questi processi queste udienze alla fine delle quali è risultato questa censura e alla fine dell'ultima udienza a Monaco Spatacopitanti ha preso il mio avvocato per il braccio ha detto perché c'erano due bisogna spiegare questo che c'erano due poliziotti dunque perché il giudice aveva ordinato la scorta per l'udienza non perché io noi l'avremmo richiesto però lei lo voleva più che altro probabilmente perché lei aveva paura e non per me e alla fine di questa udienza scortata allora Spatacopitanti ha preso il nostro avvocato per il braccio gli ha detto dica a lei perché non pronuncia il mio nome dica a lei che venga la prossima volta con sei poliziotti e non con due dunque io questo lungo e largo l'ho solo spiegato a voi perché in Germania spesso si ha tendenza di considerare la mafia come un pericolo astratto tutti parlano di la mafia italiana la mafia russa in Germania dicono anche sempre i tedeschi ma non abbiamo solo la mafia italiana ma abbiamo quella russa e più si parla meno si sente però la mafia questi sono personaggi persone come tutti gli altri dunque si possono anche vedere si possono anche frequentare e loro si come ha detto il procuratore giustamente si mimetizzano benissimo in qualsiasi ambiente e in Germania per esempio è così che tutti pensano sempre ma come è possibile in Germania dove tutti sono così stanno attenti a non accettare a rispettare la legge ma anche i mafiosi in Germania rispettano la legge nell'apparenza non è che loro fanno le cose che potrebbero che fanno qui in Italia si comportano praticamente come i tedeschi e sfruttano le dibulezze della società tedesca che sono diverse di quella italiana perché un tedesco per esempio ha una fiducia cieca nello Stato e nella legge e dunque il mafioso è il primo che lo conferma in questo e i mafiosi in Germania dicono non vi dovete preoccupare le vostre leggi sono sufficienti e la mafia esiste solo in Italia come è possibile in virtù proprio sia del racconto di Petra che di quanto riferitoci da Zincani che non esistono delle politiche comunitarie nel senso come è possibile che in un paese democratico e civile come potrebbe essere la Francia o la Germania non esiste il reato di associazione mafiosa entrambi prima il dottor Zincani poi anche se vuole intervenire le questioni sono molto complesse mi rendo anche conto che è difficile affrontarle così a braccio in un dibattito pubblico essendo a volte anche molto tecniche cominciamo dal delitto di associazione mafiosa questo contenitore giuridico è stato inventato da noi per rispondere ad una realtà che era in evoluzione sotto il profilo organizzativo e bisognava introdurre una nuova figura rispetto all'associazione per delinquere semplice l'elemento distintivo fu trovato nell'intimidazione mafiosa nel metodo mafioso nell'uso della violenza e dell'intimidazione che è un quid di specifico dell'associazione mafiosa rispetto a una qualunque altra associazione delittuosa elemento però divenuto col tempo evanescente perché sempre più insieme alla evoluzione nel senso di potere finanziario potere economico del potere mafioso l'intimidazione diretta diminuisce rispetto a quella che è un'intimidazione ambientale ovvero nelle zone dove il potere mafioso è diffuso e pervasivo non c'è più nemmeno bisogno dell'intimidazione diretta di qualcuno l'intimidazione è in re ipsa c'è una sudditanza sociale se qualcuno e Petra quanto pare conosce molto bene forse quanto meno il territorio della Locride basta guardare non si possono fare investimenti nella Locride perché è in re ipsa che qualunque investimento è controllato dal potere mafioso dunque non c'è bisogno che qualcuno venga con degli sgherri con la coppoletta e la lupara a minacciare la società è già suddita di quel potere nulla può muoversi a cominciare dagli strumenti urbanistici ovvero il potere mafioso è quello che programma il territorio secondo le proprie funzionalità a volte anche molto arretrate e demenziali basta guardare il risultato di cementificazione che ha impoverito anziché arricchito ma queste poi sono le aporie le illogicità di un sistema criminoso che in realtà non ha nulla di astrattamente logico il che porta allora a un altro problema molto grave di cui tutti noi dobbiamo tener conto non si possono formulare accuse avventate ecco perché si prendono le querele volete un esempio la maggior parte dei mafiosi conosce molto bene l'istituto del trust che io invece fatico a spiegare agli studenti di giurisprudenza e l'istituto del trust ovvero la segregazione patrimoniale fa sì che se io affermassi che una certa proprietà è di un mafioso sarei immediatamente smentito perché appartiene ad un soggetto in nessun modo io potrei ricondurlo ad un altro soggetto questo per esempio è servito per eludere tutte le certificazioni antimafia ovvero nel momento in cui noi chiediamo la certificazione antimafia per poter affidare un appalto ad un'impresa quell'impresa è pulita ovvero i meccanismi di occultamento del potere mafioso sono tanto più sofisticati quanto più il potere mafioso si espande fino al punto che non c'è più neanche bisogno di occultarlo perché esso si identifica col potere to court cioè se qualcuno ha seguito le vicende non so delle aziende sanitarie della Locride anche quelle sono sottoposte al potere ovvero nessun processo decisionale pubblico sfugge più quindi il potere mafioso si identifica al potere politico e qui una sola riflessione ciò che colpì Ferrarotti un sociologo famoso nel primo importante studio scientifico sulla mafia era non tanto il problema della esistenza della mafia ma del perché la popolazione la accettasse io ho portato più in là questo discorso nel mio libro ho affermato che non è desiderabile l'eradicazione del potere mafioso ovvero se io fossi un demiurgo dotato di poteri sovrannaturali e mi si desse il potere di stroncare ogni attività criminosa a Modena domani mattina come procuratore repubblica ci provo ma non ho questo potere divino bene la popolazione insorgerebbe e mi caccierebbero sguinzaglierebbero i cani perché avrei distrutto l'economia di Modena e quindi tutti voi direste che sono un pazzo che è piovuto qui per rovinarvi perché quando la percentuale dell'indotto anche lecito l'esempio è modesto senza arrivare all'esempio mafioso ma il giro della prostituzione a Modena alimenta i tassi gli alberghi i ristoranti tutta gente che fa un lavoro onestissimo se stroncassimo domani la prostituzione insieme alla prostituzione manderemo in fallimento anche un sacco di esercizi commerciali che svolgono una lecita attività di ristorazione di trasporto e quant'altro allora moltiplicato su scala internazionale cosa si scopre diceva Petra in Germania i soldi sono benvenuti non solo in Germania dappertutto intanto mi scuso per il ritardo ma non è colpa mia è colpa dei treni venivo da Roma e quindi c'è stato 50 minuti di ritardo e mi spiace non aver ascoltato non aver ascoltato anche l'interessante apertura insomma dei lavori per cui non mi spiacerebbe se dovessi fare qualche ripetizione però sul problema della legislazione sicuramente il procuratore ha detto chiaramente sotto aspetto anche un po' abbastanza tecnico le difficoltà e che cosa è successo ma io a me piaceva un po' ricordare la storia anche dell'introduzione del 416 bis che è l'associazione mafiosa insomma quello che il nostro codice oggi c'ha al di là dello snaturamento che ci sono ma quello è un problema più tecnico noi siamo un paese dove arriviamo sempre il giorno dopo prima l'omicidio e poi magari scriviamo una legge sempre anche di fretta la legge della Torre Rognoni questa legge che ha introdotto il 416 bis che è l'associazione mafiosa chiaramente i magistrati prima si inventavano anche per potere insomma c'era anche una giurisprudenza anche avanzata per poter anche colpire quello che è appunto all'Ocri basta andare o in Sicilia basta andare e si annusa subito che comanda come sono governate come è governata l'economia e però non avevano gli strumenti e allora la Torre era uno che aveva intuito come anche Rognoni questa percezione di questa mancanza questa insufficienza quello che non c'è quello che Petri dice che anche in Germania non c'è quindi con i limiti anche perché i magistrati hanno un compito quello di prendere un reato colpirlo nel momento in cui ne trovano le prove però devono avere gli strumenti bene questa è stata una grande battaglia di la Torre ma non è riuscito a vederla scritta questa legge è stato ucciso a Palermo subito dopo è stato portato a Palermo il prefetto della Chiesa proprio perché doveva colmare questo dove lo Stato risponde insieme con le emergenze il giorno dopo è stato ucciso anche il prefetto della Chiesa e dopo la morte del prefetto della Chiesa perché noi quando la mafia fa questi errori di percorso quando si fa vedere perché la mafia conviene come dicevano prima loro bene l'invisibilità insomma basta non sapere tutto viene camuffato per cui la mafia cresce nelle sue economie allora è dovuto appunto ci è stato l'omicidio della Chiesa per poter scrivere la legge la Torre Rognoni quella che noi chiamiamo la Torre Rognoni che è quella l'introduzione dell'articolo 416 che consente con i limiti con lo snaturamento con quello che sta succedendo anche oggi significa anche l'utilizzo diciamo dei collaboratori di giustizia che anche questo diciamo ha dato una mano a costruire dei processi a emettere delle condanne e questo diciamo è come dire lo stato della nostra legislazione o il modo di come noi poi legiferiamo a volte legiferiamo con questa proprio la legge del giorno dopo però è stata una grande conquista quello che effettivamente in altri stati non c'è e anche a livello europeo con dei limiti ma a me piaceva anche raccontare perché penso sicuramente che il produttore ha puntato molto sulla legislazione a me piaceva raccontare anche l'altra parte quello che di cui come dicevate prima la mafia ha veramente paura a volte mafiosi che ho incontrato anche nella mia realtà io sono una siciliana che ho vissuto in un paese sciolto due volte il cui consiglio comunale sciolto due volte per mafia i mafiosi non hanno paura del carcere ma non solo perché a volte gli si portava il caviale festeggiavano al di là diciamo al di là del carcere duro quello che voi sentite il 41 bis i mafiosi dal carcere governano dal carcere a volte diventano più forti perché quando arrivano fuori pensate in un paese o l'Ocri o nel mio paese Nisceme quando il mafioso del mio paese usciva fuori c'era gente ma gente la borghesia di quel paese che lo andava a baciare si complimentava a volte piangeva poverino cioè gente che aveva ammazzato non gente ecco il mafioso esce fuori e la cultura la cultura del carcere ha paura quando in una città in un territorio comincia la gente ad essere meno indifferente perché la gente non è mafiosa la gente di Locri non sono tutti mafiosi assolutamente però sono a volte indifferenti in quello che succede nell'invisibilità la mia fa governa governa l'economia per cui basta che non toccano me magari quando mi ammazzano qualcuno quanto divento poi familiare di vittima di mafia allora va bene mi hanno toccato ma in altri casi l'importante è che io sto a volte a metà per cui va bene ecco e noi ci siamo resi conto noi libera non so tutti conoscete l'associazione nome e numero contro le mafia un'associazione nazionale che mette insieme quasi 1500 associazioni in tutta Italia ci siamo resi conto che il problema vero il problema vero per noi era quello che è lavorare dentro appunto il mondo dell'educazione alla formazione alla cultura della legalità alle culture contro le mafie e io ho trovato anche interessante il libro che ho letto e ho letto anche con piacere ho letto anche con molta attenzione anche perché ha proprio un linguaggio molto come dire molto bello perché comunica ecco questo suo libro lo trovo anche interessante perché riesce a comunicare a tutti cioè un linguaggio che riesce a penetrare io ho trovato la storia che appunto di questo cammino che fa dalla Sicilia alla Calabria fino ad arrivare in Germania a Duisburg o San Luca a Duisburg io l'ho trovata interessante perché lo fa attraverso alcune storie perché la lotta contro le mafie si fa anche attraverso i racconti di alcune storie dei dolori delle sofferenze quindi l'ho trovata interessante e noi appunto come Libera ci siamo resi conto che non poteva costruirsi avevamo la mafia ma dovevamo costruire una cultura dell'antimafia una cultura in cui si partiva dall'educazione delle scuole ma poi andava anche oltre e noi appunto ci siamo resi conto che in quello scenario dove lei ha costruito questo libro dove parla di questa straordinaria per esempio donna fotografa dell'antimafia che l'inizia battaglia e che non lo riconosce perché la non sta a Palermo che in alcuni momenti nel libro dice beh forse non c'è più nulla da fare con molta delusione perché lei è stata dentro la storia l'ha vissuta e poi quando non vedi i cambiamenti a volte ti deludi però i cambiamenti io credo che quando si semina poi alla fine c'è un momento in cui si raccoglie io credo che anche l'esperienza di noi di Libera che facciamo in Sicilia in Calabria così viene fuori non è iniziata da capo insomma è venuta fuori da un substratto culturale che hanno iniziato chi ha fatto le culture non si inizia da noi o da me io scrivo di antimafia allora da lì si inizia l'antimafia no si inizia da una cultura da gente che l'ha fatta dopo le stragi di Falcone e Borsellini in Sicilia in particolare la Sicilia perché è emblematica purtroppo non è così la Calabria ancora la Campania la Sicilia ha avuto la mafia forse più dura più violenta quando c'era lo scontro molto forte ma ha avuto un'antimafia importante e la cultura è questa insomma la Sicilia ha avuto questa antimafia dopo le stragi la gente è andata fuori non è voluta più essere indifferente forse ha messo più cuore che ragione bisognava mettere anche un po' più ragione quindi resistenza per esistere per cui ognuno costruiva un pezzetto e poi le delusioni per costruire l'antimafia costruire nei territori pensate di Ballarola della Vucceria di Palermo costruire lì una cultura dell'antimafia della legalità e poi la spazzano via magari con una discussione con un articolo del giornale in cui tutti siamo uguali tutto è così per cui è molto molto lenta diciamo costruire in quei territori insomma una cultura vera allora è chiaro che le delusioni poi partono a dire anche a Letizia Battaglia una straordinaria donna che ha fatto la primavera di Palermo a dire insomma forse non c'è più nulla da fare ma io credo che anche Letizia Battaglia quando guarda quello che sta succedendo in questo paese io sto parlando dell'antimafia credo che penso che anche lei è un pezzo di quella storia un pezzo che l'ha fatta e la continua a fare la continua a fare ognuno a modo proprio allora io penso alla grande battaglia e per cui le grandi battaglie vere poi le fa la gente dopo le stragi di Fercone e Borsellino noi ci siamo resi conto con una sorta di una intuizione molto acuta e molto intelligente di Don Luigi Ciotti dire beh noi non possiamo essere frammenti dobbiamo andare oltre i frammenti dobbiamo metterci insieme e cominciare a capire dove partire insomma e allora lì abbiamo messo insieme l'associazionismo a livello nazionale e ci siamo resi conto che bisognava partire appunto dalle scuole e allora tutti i progetti di educazione e formazione della legalità però quello era sempre un settore ma era parziale ci siamo resi conto che anche la legislazione era parziale perché i magistrati hanno un compito importante e lo fanno molti magistrati non a caso abbiamo avuto cioè Falcone e Borsellino sono magistrati cioè che nici di vattino quanti ne dimentico però hanno un lavoro preciso ci sono dei reati li devono colpire seppur hanno questo strumento della legislazione del 416 bis ma colpiscono reati poi c'è una funzione di altre quella della politica che dovrebbe essere un po' più credibile anzi molto più credibile che magari non fa pienamente il proprio comodo ma poi c'è quella della società che noi chiamiamo responsabile più che società civile ci siamo resi conto che non era un pezzo importante la formazione educazione e la legalità ma pensavamo che dovevamo costruire anche modelli modelli positivi che non sono solo a volte parole dove tu lasci chiaramente una cultura ma una cultura che deve essere seminata coltivata ci siamo resi conto per esempio che la legge della Torre Rognoni era una legge sì importante metteva in galera alcuni i mafiosi magari dal carcere anche governavano però c'era un limite perché la mafia appunto ha paura della cultura ha paura quando la gente comincia a capire a conoscere a sapere e quindi anche i molti giornalisti uccisi oltre insomma le minacce ma Fava Siani insomma Alfano sono ne dimentico altre sono giornalisti cioè avevano solo voglia di dire di fare bene il loro mestiere di dire cioè il giornalista cosa fa se non informa questo bene ci siamo resi conto che perché la cosa importante era quella che la mafia ha paura quando gli si tolgono i patrimoni perché è una mafia ricchezza la mafia non è povertà la mafia non è solo quello che spara quello che spara sono i ragazzini che gli danno un po' di cocaino gli danno qualche soldo e vanno a sparare ma la mafia è quella cioè accumula di denaro che poi come avete detto bene voi quindi va a investire perché adesso non è la mafia delle coppele la mafia è la che si presenta con la legitta 24 ore con fior di avvocati insomma commercialisti che investono e allora ci siamo resi conto che il punto era i patrimoni della mafia che venivano appunto grazie a questa legge la riunione della torre sequestrati nella fase in cui c'è il processo e poi confiscati nel momento in cui c'è la condanna passata in giudicato questi patrimoni doveva esserci una sorta di risarcimento sociale una sorta di restituzione dei patrimoni ai territori perché la mafia si arricchisce scippando con la droga facendo morire persone cioè cercando e quando si fanno appalti scippando anche all'economia sana per cui ci siamo resi conto che questa è una legge che era una legge che non era completa allora abbiamo detto andando anche dai parlamentari noi come Libra abbiamo detto ma qui dobbiamo cercare di capire che questi patrimoni toltai mafiosi devono avere un senso ed essere restituiti alle comunità quindi il riutilizzo sociale dei beni toltai mafiosi chiaramente nel momento in cui lo Stato diventa possiede insomma diventa proprietario di un bene e ne vuole fare uso per fare la caserma o altro e già lì sono presidi di legalità importante pensate a una casa di Provenzano e di Rina che diventa una scuola o che diventa anche una caserma c'è un impatto importante specialmente nei territori allora però nessuno si metteva lì a scrivere diciamo il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla mafia anche ai corrotti bene ci siamo resi conto che bisogna come siamo appunto abituati ad avere le leggi del giorno dopo e siccome la mafia ha cominciato a capire che era meglio essere invisibile rimanere invisibile quindi niente più stragi meno male allora ci siamo messi nelle piazze d'Italia abbiamo raccolto un milione di firme parlando con la gente abbiamo detto alla gente l'importanza e con la gente si fermava e capiva che quella era una cosa importante anche se non l'aveva percepito perché era una cosa che era anche fuori di sé non aveva mai avuto un rapporto diretto insomma abbiamo raccolto un milione di firme e l'abbiamo portato al presidente della Camera abbiamo detto questa è la legge che l'Italia vuole cioè il riutilizzo sociale dei beni confiscati dalla mafia questa è diventata legge chiaramente il Parlamento ha votato la parte della mafia ha tolto quella della corruzione perché insomma per la celerità non l'abbiamo assolutamente accettato però andava già era un primo passo abbiamo avuto una legge che si chiama la legge 109 nel 96 è diventata legge grazie a questa legge ecco in quei territori dove Letizia Battaglia questa fotografa della mafia e che ha costruito un pezzo di storia della primavera palermitare e anche altra gente noi abbiamo nei territori che erano occupati culturalmente ma anche visivamente dalla mafia da Riina da Provenzano da Messina denaro i propri beni dove sono stati i processi sono altro la villa di Riina è diventata una scuola prima a Corleone questa cosa i terreni di Provenzano di Riina e di altri mafiosi sono diventate terre coltivate da ragazzi che sono rimasti nei territori nella Lopide a Palermo e sono rimasti lì a lavorare e intanto lavorano quelle terre e coltivano molti di voi conoscono i beni che vengono dalle terre confiscate l'olio il vino la pasta e sono come dire che hanno noi i sapori della legalità pensate che Provenzano era latitante in un casolare assolutamente anonimo di fronte a questi ragazzi che lavoravano nella legalità e lavoravano le terre confiscate dalla mafia queste terre che hanno un valore aggiunto valore in più perché intanto nei primi anni di questi ragazzi coraggiosi che rimangono e sono in quei territori i primi anni anche alcuni lavoratori alcuni contadini non andavano a lavorare pur essendo disoccupati non andavano a lavorare come se fosse stato per loro un attentare contro i mafiosi insomma che erano magaringa l'eroe non latitante Provenzano era lì ancora a Corleone e allora loro non andavano a lavorare per cui c'erano anche difficoltà di trovare delle persone con tutta la disoccupazione che c'era a Corleone a Trapani bene quando c'è stato un momento in cui cominciavamo a parlare della qualità del lavoro perché anche questo è importante allora hanno cominciato a vedere che lì si venivano dati i contributi che lì avevano un lavoro vero avevano un lavoro nella legalità bene si è superato quello adesso in quelle terre ci lavorano solo i ragazzi della cooperativa perché sapete essendo lavori stagionali c'è anche bisogno a volte di fare laura ad altre persone bene questo è quella storia che è iniziata ma che continua e che continua noi quest'anno e qui c'è una presentante di un gruppo straordinario di Modena che sono i Modena abbiamo fatto una cosa bellissima loro presentanti il loro nuovo CD hanno attraversato l'Italia e fermandosi in tutti in alcuni luoghi non tutti chiaramente i beni confiscati alla mafia che vengono appunto lavorati da questi ragazzi coraggiosi che stanno lì e lì hanno perché noi siamo sempre più convinti che dalla mafia che da dolore che produce dolore che produce morte bisogna invece ridare gioia e impegno noi abbiamo avuto con questo gruppo insieme a Libera abbiamo attraversato questi territori questi beni che sono governati da questi ragazzi che sono insomma dove lavorano questi ragazzi e abbiamo cantato ecco la gioiosità ecco quando da questo ne deve derivare anche gioia perché la lotta contro le mafie dobbiamo considerarla come una lotta conveniente quando parlo della società responsabile non sto parlando anche di altro e questo è quello che noi di Libera insieme insomma a tante altre associazioni e a tanti altri pezzi insomma della società stiamo cercando di costruire e quello di seminare e poi ci sono i ragazzi di Oddio Pizzo e poi ci sono anche la confindustria siciliana che alza la testa sono dei pezzi di storia che si cominciano a fare e questo è importante sono delle cose importanti noi come Libera per esempio abbiamo un settore che si chiama Libera Memoria e abbiamo costruito un ufficio legale che accompagniamo nei processi il chi si costituisce parte civile perché pensate una persona che ha avuto ammazzato il papà o ha avuto ucciso il fratello perché si opponeva alla mafia non perché era mafioso che deve vivere non solo quel dolore quel dolore perché si era impegnato civilmente ma deve anche vivere i processi deve anche entrare in quel mondo che non ha mai conosciuto e noi vediamo il dolore ci parliamo ogni giorno io vengo da una riunione in cui per organizzare stiamo organizzando una manifestazione a ottobre c'era una ragazza il cui padre è stato ucciso un imprenditore di Locri è stato ucciso perché non voleva pagare il pizza quindi quando questo da questo dolore questa ragazza oggi diventa la nostra referente diciamo di Libera Nazionale che lavora su questo io credo che un pezzo d'Italia cammina ancora poco ancora poco io credo che ancora di più e specialmente al nord io credo che al nord dove c'è ancora quello che noi percepiamo come mafia invisibile quella cosa che non vediamo ma anche al sud badate che anche a Palermo in altre città nella mia città il consiglio comunale è stato sciolto due volte per mafia fino a poco tempo fa mi prendevano per matta perché parlavo di mafia adesso il sindaco sciolto per mafia è andato in galera cioè ma questo dopo dieci anni perché noi siamo sempre andiamo in ritardo facciamo una cosa è la magistratura che deve trovare i reati deve trovarne le prove una cosa è quello che noi guardiamo cioè chi abita in quei territori lo sa con nome e cognome allora il punto è quanta necessità c'è di società responsabile che non si può girare dall'altro lato che bisogna bisogna esserci perché questo significa dare anche forza a una magistratura che deve fare il proprio lavoro ma non si può abdigare quello che deve fare la società civile o responsabile alla magistratura ognuno fa un proprio pezzo anche l'informazione fa un proprio pezzo e devo dire che in Italia purtroppo fa molto poco perché quella che è l'informazione che dovrebbe come dire smuovere le coscienze dovrebbe raccontare i fatti e poi dare gli strumenti alla gente a risapere c'ha quello che io ho trovato interessante annerire nel libro suo bisogna vederle queste cose bisogna vedere che c'è la censura ecco questo è un altro pezzo importante noi come Libra abbiamo fatto appunto Libra Informazione il cui responsabile è Morrione Roberto Morrione e questo troviamo perché per mettere insieme tutte quelle che sono le invisibilità cioè quelle che sono come dire le informazioni anche nei territori piccoli nella Locride c'è il giornalino della Locride in Sicilia metterli insieme e farle diventare forza con una forza economica che chiaramente non abbiamo ma che invece deve essere la forza della coscienza la forza anche dell'indignazione grazie vista l'ora considerando che appunto il dottor Zincani tra poco dovrà andare volevo fare un'ultima domanda a Petra perché era una cosa ricollegandomi a quanto detto appunto da Enzarando sulle storie questi personaggi perché alla fine è un racconto è vero sì di investimenti di alberghi di tutto ciò di strutture in cui la mafia ricicla il denaro eccetera ma è anche e soprattutto un racconto di personaggi che tu hai incontrato risalendo dalla Sicilia sono personaggi che tu racconti scritti benissimo chiunque l'ha letto anche nel corso di queste presentazioni che abbiamo fatto è rimasto sorpreso perché un libro che si legge d'un fiato in un giorno e mezzo due io mi chiedevo come è possibile raccontare di persone così controverse come padre Frittita come l'avvocato Rosalba Di Gregorio la più famosa avvocato della mafia questo mi chiedeva con quale spirito tu da reporter vai a intervistare senti racconti apparentemente così limpidi e puliti di gente di questo tipo volevo dire anche a proposito riferendomi a Letizia Battaglia che è uno dei protagonisti come iniziamo con questa Letizia Battaglia che è un fotografo e la mamma anche di quella fotografa con la quale ho sempre lavorato che si chiama Shoba che ha fatto anche la copertina di questo libro e con la quale ho fatto tutti i reportage assieme allora Letizia è una combattente che ormai oggi ha 75 anni che tutta la sua vita ha lottato contro la mafia e questo è anche un po' un filo condottore nel mio libro e lei io l'ho trovato di un grande coraggio quello che ha detto quello che io ho citato nel libro del mio libro di come una conclusione molto amara della sua vita e molto coraggiosa di dire abbiamo perso la nostra causa e non dicendo ovviamente non lo esclude ovviamente le speranze ci sono c'è Libra ci sono organizzazioni come Addio Pizzo a Palermo ammazzateci tutti dunque c'è un grande movimento di giovani che si rivelano contro la mafia assolutamente chiaro però Letizia ha anche l'esperienza lunga di sapere anche all'inizio per esempio le donne subito dopo c'era una grande indirnazione in Sicilia dopo l'uccisione di Falcone e Bossolino ovviamente uno non riesce questa rivolta c'era quasi una rivolta sociale contro la mafia e era un grande problema per la mafia perché quando non ha il consenso sociale non può funzionare e per questo anche Provenzano ha scelto l'invisibilità e tornare nel consenso dunque e lei io l'ho trovata molto coraggioso perché lei vive a Palermo e di vedere le facce cioè dei politici a Palermo dunque questo per lei è veramente una grande umiliazione per una donna che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la mafia e i personaggi che sono dentro il mio libro sono io volevo per questo anche nel mio libro per esempio non ho scritto di Libra oppure di Amazzarci tutti perché non volevo assolvere i miei lettori e non volevo dare un'occasione a loro di dire come lo dicono perlomeno i tedeschi molto velocemente e non credo che sia riverso anche nel nord Italia beh visto che ci sono organizzazioni come queste dunque c'è speranza allora non dobbiamo neanche preoccuparci no invece no perché dobbiamo sì preoccuparci non volevo dare questa consolazione che sono ovviamente è una consolazione di avere gente che lotta ogni giorno che fanno che cercano di creare una cultura antimafia nelle test ovviamente però io non volevo dare questa consolazione ai miei lettori li volevo preoccupare più che altro perché c'è da preoccuparsi c'è da preoccuparsi perché la gente che rappresenta è la mafia non è che quando li incontri non sono mica antipatici anzi sono simpaticissimi allora per esempio io la cosa che mi ha colpito soprattutto è la diciamo l'accordo purtroppo sempre molto forte tra la parte chiamiamola deviata della chiesa cattolica e la mafia di tanti preti questo mi ha colpito moltissimo tanti preti che andavano a trovare i boss nel loro nascondiglio e tra l'altro ho avuto l'occasione non solo di incontrare uno ma uno in particolar Moro che era molto significativo che era padre Freitita che era noto come confessore e che ha celebrato la messa ha andato a trovare nel suo nascondiglio Pietro Aglieri e quando ho incontrato padre Freitita per me era veramente indimenticabile perché ero stupita come curiosa anche come lui poteva giustificare quello che lui ha fatto perché non si sentiva mica in colpa perché lui è andato a trovare questo boss nel suo nascondiglio lui è stato arrestato il prete è stato arrestato dopo è stato anche mandato in esilio fuori Sicilia ma non so non mi ricordo un giro nel giro di tre mesi è tornato con il trionfo della sua parrocchia è tornato nella sua chiesa nella calza a Palermo e quando l'ho intervistato lui ha giustificato quello che lui ha fatto come lo fanno tanti preti dicendo che non ha fatto altro che applicare la giustizia divina e ogni boss anche il più feroce ha il diritto di trovare un prete disponibile che non lo denuncia presso la giustizia terrena che ovviamente negli occhi di un prete è sempre sottomessa a quella divina e quando l'ho intervistato era fine dell'estate a Simakon Shoba e faceva molto caldo poi c'era l'odore di incenso che io ho saputo molto con grande difficoltà solo e c'erano anche l'odore di di l'ilio ed ero molto vicino a lui e chi mai tra di voi è andato a confessarsi ha anche forse presente anche l'odore classico di un prete che l'odore di un vecchio uomo con un po' di incenso e questo fatto che lui ha talmente difeso il suo quello che ha fatto alla fine di questa intervista sentivo mi ha accolto un malore io volevo non era molto professionale di svenire alla fine di una intervista però era più forte di me mi sono alzata e sono caduta per terra ho perso conoscenza e allora il padre frittita ha preso un olio di melissa l'ha spalmato qui sul mio petto e in questo momento è arrivata la fotografa Shoban ha chiesto cosa succede qui e il padre frittita niente 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 e allora Shoban ancora oggi crede che lui mi ha ipnotizzato e questo era una cosa molto significativa perché come anche altri come il boss Carmine Sarno che adora scrivere canzoni di amore che lui gestisce un sacco di cantanti napoletani che a proposito è anche una grande industria della camorra a Napoli questa è una persona con grandi sentimenti e non si può neanche dire che era un antipatico come non è antipatica a prima vista Rosalba Di Gregorio che era una grande avvocata l'unica donna fino ad oggi in Sicilia perlomeno per quanto mi risulta che difende dei boss di questo di questo livello e lei lo fa con un certo senso io lo volevo capire anche come è possibile che senza alcun rimorso alcun problema morale di difendere un boss di cui non c'è neanche come per un criminale normale uno potrebbe dire beh questo ha ammazzato la sua moglie però l'ha ammazzata perché è stato preso da un raptus oppure ha covato un odio per anni dunque c'è una scusante che per ogni che non esiste per i mafiosi per i mafiosi vive dentro un sistema criminale che il delitto è un come dipinge cioè ammazzare una persona come dipinge un muro dunque fa parte del suo lavoro dunque non c'è questa possibilità di credere la sua innocenza e questo l'ho trovato volevo capire come si può ognuno giustificare in questo sistema ed è molto facile per lei è molto facile essendo anche a Palermo in una società in cui credo che tuttora oggi essere contrario alla mafia è molto meno normale che di essere favorevole alla mafia e questo erano dunque dentro questo libro ci sono vari personaggi che mi hanno colpito che fanno tutto questo universo che uno nomina astrettamente la mafia però sono persone molto gentili molto eduquate che uno non si aspetta visto allora anzitutto ringrazio tantissimo i nostri i nostri ospiti e chiedo a voi se avete delle domande da fare è difficile uscire dallo momento di avervi ascoltato di della sensazione di impotenza che genera il dialogo che è stato costruito perché da un punto di vista prettamente legale mettiamola partendo da quello che ha detto il procuratore ho avuto la sensazione immediata che la capacità di adattamento della mafia a tutta la trafila di leggi che si sono fatte negli ultimi 20 anni sia quasi un acceleratore più che un inibitore nel senso che i cittadini diciamo l'imprenditore in generale hanno pagato il costo di dover fare trafile di documenti e di spiegazioni per dimostrare che non agiscono attività mafiose invece coloro che si dedicano all'attività mafiose hanno creato un sistema quindi la loro specialità per adattarsi con più rapidità e quindi avere un vantaggio perfino da un punto di vista professionale competitivo nei confronti delle altre aziende da un punto di vista emotivo quindi mi riferisco a quello che diceva lei signora prima sono stato pochi giorni fa a parlare con un gruppo di questi ragazzi che fanno le cooperative vicino a Palermo hanno sequestrato 400 etari di terra che lavorano loro nella provincia di Palermo e Trapani è bellissima iniziativa è una cosa straordinaria però di cosa stiamo parlando è un esforzo è una goccia in un oceano dove il livello di corrupzione il livello di peggioramento è estremo da un punto di vista della sensazione che ho avuto sentendo all'autrice e al procuratore a voi tutti tre è la sensazione di una cupola ma non una cupola mafiosa una cupola di potere che si è agganciata molto bene e sta schiacciandoci però si sta schiacciando in un modo estremo e sto parlando della cupola del potere politico del potere finanziario del potere della capacità della mafia e di tutti i suoi nomi di ramificarsi e di coprire creando una sorta oltretutto con il dominio anche della struttura informativa una forma di accettazione collettiva di quello che sta capitando non solo in Italia oltretutto in questo momento quindi non faccio fatica veramente a uscire da questo momento a questo momento a cui sono arrivato forse varrebbe la pena fare leggi molto semplici e puntare moltissimo sull'educazione sulla reazione emotiva ho visto ho letto il libro questo di Gomorra ha creato una profonda reazione emotiva ci sono altre forme e questo stesso libro immagino che la genererà creare andare a una forma di comunicazione che permetta di creare queste reazioni emotive perché da un punto di vista del ragionamento freddo credo che abbia ragione Letizia Battaglia e qualcun altro l'hanno vinta loro e poi purtroppo io vivo qui in questo paese da 30 anni e in 30 anni ho visto il loro progresso e il nostro arretramento scusate mi chiedo scusa siccome devo andare parto da quest'ultima considerazione ho pochi minuti poi devo davvero scappare e mi scuso con voi di questo è quasi costante questo tipo di osservazione in tutti i dibattiti a cui io partecipo con grande piacere e anche con grande impegno considero quasi anzi una parte importante del mio lavoro forse voi non lo sapete io per esempio vado costantemente nelle scuole e al termine c'è sempre qualche studente che dice ma noi cosa possiamo fare dunque siamo di fronte a un potere pervasivo che tende a diventare totale e dunque noi siamo impotenti in realtà non è così le situazioni in realtà sono molto complesse le società moderne non sono compatte e le situazioni sono in continuo divenire e due sono le grandi contraddizioni la prima noi viviamo in un sistema capitalistico ma il potere criminale tende ad essere monopolistico questa è una prima contraddizione per cui man mano che si espande il potere criminale che è monopolio nascono spontaneamente reazioni perché è una contraddizione insanabile il sistema capitalistico in realtà non sopporta il monopolio quindi è all'interno del sistema capitalistico stesso che esistono per così dire degli anticorpi di contrasto economico del potere mafioso il secondo punto è quello che ha molto opportunamente sottolineato la rappresentante di Libera che è quello della cultura io ero molto amico di Giovanni Falcone anche per motivi di sicurezza ci ospitavamo a vicenda durante le trasferte quando lui veniva a Bologna veniva a casa mia io andavo a casa sua a Palermo quando ero lì per lavoro e tutti noi eravamo consapevoli che senza l'apporto della cultura non c'è nulla da fare però attenzione finché ci sarà una sola persona qui in quest'aula ci sarò anch'io e finché ci sarà una sola persona la battaglia non è persa ecco perché la cosa che io più temo è il silenzio ecco perché la cosa che più temo non è l'intimidazione diretta ma la soggezione silente della società dunque il problema è questo gli anticorpi stanno in noi nell'assetto che noi diamo alla nostra società e improvvisamente proprio quei posti che sembrerebbero i più abbandonati parlo proprio di Locri improvvisamente si scopre che i giovani si oppongono e dunque non si può né essere ottimisti né pessimisti questa è la società in cui viviamo in parte non ce la siamo scelta in parte ce la siamo voluta perché ancora una volta questo tipo di situazione è un punto delicato di equilibrio tra le azioni individuali e il risultato complessivo io naturalmente ho un ruolo istituzionale ma al di fuori di questo ruolo istituzionale potrei stare tranquillamente in poltrona a guardare la televisione invece di partecipare ai dibattiti partecipo ai dibattiti voi potreste essere a fare qualcosa di più piacevole invece che annoiare siete qui questa testimonianza è fondamentale quindi sono io che ringrazio voi di essere venuti ed è questo che ci dà soprattutto la possibilità di continuare se la cosa si riducesse a una faccenda giudiziaria allora si avremmo perso in realtà non abbiamo affatto perso anzi le situazioni attuali sono molto avanzate sotto il profilo del contrasto soprattutto in quelle zone come la Sicilia guarda caso dove è stato portato alla luce ecco la contraddizione del potere mafioso lo potere mafioso li ha portati a strafare a essere troppo visibili lì si è innescata una reazione della società civile è la società civile che deve portare avanti la sua battaglia e noi ne siamo solo i testimoni vi ringrazio tutti vi ringrazio tutti grazie a tutti Qualcun'altro ha delle domande per Enzo o per Petra? Forse ce la fai anche se... Egole, lei ha citato, si sono accorti che per gli altri ragazzi venivano pagati i contributi, quindi c'era un motivo per lavorare nella legalità perché tutto il resto della società ne beneficia e dopo hanno cominciato a lavorare. Ho capito che hanno cominciato anche loro a lavorare in queste terre sequestrate ai mafiosi. Ci sono spazi, qui anche la domanda un po' riguarda Petra, riferito alla Germania o anche all'Europa, ci sono spazi per sensibilizzare la società civile di cui il dottor Zincano parlava, a promuovere dei comportamenti della legalità ma anche nelle piccole cose, non solo che noi cittadini comuni possiamo cominciare a mettere in pratica per vedere se qualcun altro ci viene dietro perché c'è un vantaggio per tutti a lavorare nella legalità e a fare le cose in modo legale. Io vorrei a proposito di questo raccontare una storia della Germania che è un po' particolare perché è diverso qui la realtà giustamente in Germania. Uno potrebbe pensare che i tedeschi giustamente non sono più, anzi siccome hanno osservato questo fenomeno di mafia da lontano sarebbero ancora più spinti essendo anche molto fedeli al rispetto della legge eccetera eccetera, molto di più che gli italiani, che si dice, sarebbero ancora più disposti ad essere contrari alla mafia. Io posso raccontare un piccolo esempio che io ho trovato molto significativo. Allora davanti alla pizzeria da Bruno, dove era prima, dopo si è traslocato comunque, la pizzeria da Bruno a Duesbock era un luogo di incontro di mafiosi che era noto tra tutti i tedeschi, tutti sapevano che questo era un ristorante di mafiosi. Bene, allora non era così che i tedeschi dicevano ma che mi fa schifo, allora io non mica voglio avere a che fare con... No, c'è la raccora davanti, la raccora. Allora io sono andata lì e ho parlato con un fioraio che ha il suo negozio davanti, così chiacchierano, e lui mi ha detto che conosceva uno di, per esempio, Sebastiano Strangio, uno di questi che è stato ammazzato, abitava sopra di lui. Dunque lui diceva sì, sapevamo tutti che questo era un luogo di incontro della mafia, c'era sempre l'accordo davanti, poi hanno spessissimo fatto dei sequestri, la gente, questi ospiti che erano lì a mangiare, dovevano uscire e dopo potevano ritornare, dunque era tutto presente. E lui conosceva questo Sebastiano Strangio che ogni mattina alle 11 quando andava a aprire il suo ristorante è passato e ha salutato gentilmente il fioraio. Il fioraio diceva, io sapevo benissimo che questo era mafioso, però era così gentile. E poi lui, dopo il trasloco del da Bruno, ci ha invitato anche al ristorante a venire a mangiare. Il fioraio con sua moglie è anche andato. L'unica cosa che gli dispiaceva è che Sebastiano Strangio non voleva che pagasse alla fine. Dunque, io l'ho trovato molto curioso questo episodio, per un tedesco, dunque, mafioso sì, è un mafioso, però era gentile. Dunque, se la stessa cosa io l'avrei osservata a San Luca, oppure in Sicilia, avrei scritto, per prendere gli appunti, avrei scritto così mafiosi sono. Anche tedeschi, voglio dire. Cioè, è molto facile dire, ma alla fine cosa vuol dire la mafia. Dunque, io credo che la disponibilità verso la mafia è molto più grande che lo pensiamo, e non solo nel sud, ma ovunque nel mondo. Purtroppo, dunque, moralmente è molto difficile creare una coscienza veramente moralmente di essere contrario alla mafia, e non solo perché in generale essere contrario alla mafia è molto facile, però nel piccolo di dire sì, io non voglio, per esempio, mangiare, farmi invitare da un mafioso è già un piccolo passo. Quello che oggi, molto ovviamente, diceva prima, appunto, Petra della Germania, in alcuni luoghi, anche in Sicilia, in Calabria, lo era. Cioè, essere amico di un mafioso è potere, cioè essere amico di un mafioso che poi anche vicino alla politica ha ancora un potere. Il mafioso è gentile, ti fa il favore. Ecco, è questo il modello che anche noi dobbiamo, noi, noi società responsabile, dobbiamo, come dire, invertire. Cioè, non è così. Il mafioso non è gentile. L'atteggiamento che ha, nel senso di cordialità, della sua invisibilità, è chiaro. Ma il mafioso spara, ammazza. Cioè, il mafioso ammazza i bambini. Il mafioso scioglie l'acido è un bambino, solo perché il papà stava collaborando. Ecco, se noi lo scenario che diamo e l'immaginario che diamo è la società responsabile. Noi, una delle cose che facciamo, per esempio, il 21 marzo, che è la prima giornata di primavera, facciamo una manifestazione come libera nazionale in una città d'Italia ogni anno. Quest'anno siamo stati a Napoli. E viene l'Italia, ma l'Italia, i ragazzi, i giovani, quelli che vogliono capire e vogliono esserci. Quindi quella società responsabile che parte appunto dalle scuole, dal mondo dell'università, dal mondo, come dire, dell'imprenditoria sana. Ai quali noi, quando raccontiamo, si raccontano i familiari delle vittime di mafia. I familiari che hanno avuto questo grande dolore, solo perché il papà non voleva pagare il pizzo, perché aveva alzato all'Ocri, in Sicilia, in Calabria, ha alzato la testa. E aveva cominciato a far capire che la mafia non è una cosa bella. La mafia non è una cosa bella, è gentile perché non ti fa pagare la cena, perché quando viene... cioè, nella mia città io avevo il sindaco mafioso che governava la mia città, il cognato del sindaco mafioso che siedeva nella sua stanza mentre aspettava il cognato del sindaco mafioso. E l'altro clan che era la parte del pubblico. Io ero consigliere comunale, quando andavo a casa mi seguivano tutte e tre, no? Tutti il mafioso, il cognato. Ma questa cosa, Gentili, no? Era un atteggiamento. Cioè, allora, se noi questo lo traduciamo invece che la mafia ammazza, la mafia toglie risorse sane, la mafia dà la droga ai ragazzi che si sentono in un momento di smarrimento e anziché accoglierli, a farli crescere dando strumenti, invece li uccide. Allora, la mafia è questa. La mafia non dà, non regala nulla. Regala qualcosa forse alle proprie famiglie, alla propria ricchezza. Quindi è questa l'idea che dobbiamo dare della mafia. La mafia non è, e nemmeno quando si parla, noi abbiamo avuto sempre il luogo comune, la coppola, il mafioso poverino non ha lavoro, non è vero. La mafia è ricchezza. La mafia, come dire, succhia le energie sane. Il ragazzino che va a sparare, io sono di una città, in questi giorni avete sentito in televisione, Rai 1 e Rai 2 l'ha presa come seconda notizia, un ragazzo giovane che era stato assoldato dalla mafia per vendere la droga, a un certo punto la sua compagna gli ha detto tu denunci o io ti lascio. Lui ha denunciato e è diventato collaboratore di giustizia. Bene, la mafia stava organizzando di uccidere due bambini, i suoi bambini, che si trovavano ancora in città finché loro sono entrati nel programma di protezione, perché quando uno diventa collaboratore di giustizia entra nel programma di protezione. Questi mafiosi di questa città, oggi nel 2009, stavano organizzando di uccidere due bambini di sette anni. Allora, la mafia è quella, dobbiamo guardare in faccia che è questa. Non è perché è povera, allora ti ha soldo a vendere la droga. Bene, quello forse dobbiamo cominciare a capire, a strapparli dalla mafia. Ecco, quando è importante anche una legislazione, che in uno Stato democratico non dovrebbe esserci la legislazione dei collaboratori. I collaboratori sono coloro che hanno fatto dei reati, sono dentro la mafia, e poi a un certo punto decidono di pentirsi o per lo sconto di pena, perché hanno capito che molto meno hanno fatto anche un errore. E noi di queste persone, noi strappare ogni persona dentro la mafia è anche importante, perché molto probabilmente dobbiamo dare l'immagine che non è questa, non è quella che era gentile o provenzano che nel suo territorio creava come... Oh, ma Provenzano ha fatto i figli mentre erano latitante, cioè non era la moglie, l'ha fatto con lo spirito santo. Per cui è chiaro che a Corleone, Corleone è una città di 18.000 abitanti, ma tutti lo sapevano possibilmente dov'era o dove poteva essere, no? Ma aveva il consigliere comunale Giuffré vicino che gli portava i pizzini. Allora, quando l'hanno arrestato, questo poveraccio era, poverino con l'angelo, insomma con la Bibbia, ma lui aveva ammazzato, ma sapete quando le persone, le stragi di Capagio di... Allora, noi dobbiamo dare, quando cominciamo a parlare di questo, cominciamo a capire quello che hanno fatto, cominciamo a sapere quello che hanno fatto. Allora, se la memoria che viene fuori non è quella, è il gentile. I mafiosi del mio paese tutti gentili erano, però poi ti bruciano la casa, ti dicono che quello che dicevano a lei, insomma, che coraggiosa, no? Ma che coraggiosa è una minaccia, non è che è una cosa, è un linguaggio di minaccia. Allora, secondo me, era la società responsabile che ha un compito importante, che è quella di indignarsi, ma l'indignazione non può rimanere all'emotività. Io sono d'accordo, cioè il libro di Saviano ha dato questa cosa, perché ha detto delle cose che gli dicevano anche altri, solo che lui l'ha detto anche in modo, con un libro che è stato molto letto, però l'emotività non si può tradurre sul fatto facciamo la manifestazione, ci siamo. L'emotività significa che poi si deve tradurre il ragione di esserci e di fare ognuno il nostro pezzo, e ognuno di noi può fare il nostro pezzo, anche in questi luoghi, anche a Modena, anche a Bologna, cioè noi qui abbiamo dei... Io vado dicendo, e credo che sia questo il dato, c'è fra poco, fra qualche anno, i beni confiscati che oggi sono in maggior misura in Calabria, in Sicilia, molto più in Sicilia, fra poco saranno al nord, perché quello che hanno investito al nord ancora si deve trovare. Noi abbiamo 60 beni confiscati in Emilia Romagna, di cui 40 sono riutilizzati a livello sociale, ma nel momento in cui ci saranno attrezzate, ci saranno costruiti i processi, ci saranno beni confiscati, perché loro vengono a vivere qua, vengono a investire qua, oltre in Germania, con la mafia calabrese e altro, oltre in Olando, in Danimarca. Un'altra cosa importante, per esempio, non ho risposta alla domanda che facevi tu anche per il tempo, noi di questo limite l'abbiamo visto, che oggi la mafia non ha frontiere, va oltre. Noi siccome sembra che arriviamo dopo, noi pensiamo che anche la legislazione, che non deve essere appesantita, deve essere anche europea, e se non ho anche altro. E noi abbiamo creato un settore che è libera internazionale e stiamo ragionando anche col Parlamento europeo. Alcuni passi si stanno facendo. Il Parlamento europeo, vedete, è molto difficile anche pensare il discorso della confisca dei beni. La confisca dei beni è tu togli delle proprietà a un mafioso, allora c'è tutto un discorso delle costituzioni di ogni paese, è possibile la proprietà privata, tutto, non voglio fare il discorso tecnico, però il Parlamento europeo sta cominciando a ragionare sulla confisca dei beni, sta cominciando a ragionare a un ordine della reciprocità. Se un bene si trova in Germania, cosa facciamo? Se un bene si trova in Olanda, cosa facciamo? Confiscata un mafioso siciliano, calabrese. e questo c'è una sorta di attenzione, perché la società è responsabile, un pezzettino, ognuno facciamo la nostra parte, anche noi di Libera siamo piccoli che facciamo la nostra parte, abbiamo voluto ragionare a livello europeo, cioè l'Europa deve ragionare su una legislazione, così come la mafia non ha frontiere, anche la legislazione antimafia non può avere frontiere, quindi il discorso del reatto associativo, mafioso, della confisca, del riutilizzo sociale, ma è un percorso molto lento, perché le legislazioni hanno delle loro storie, il concetto della proprietà, però ci stiamo ragionando, e secondo me quando lei diceva cosa possiamo fare, ognuno di noi, che mondo nella scuola, che del sindacato, la politica, la politica molto assenta che non è credibile, la credibilità, noi siamo quelli che abbiamo il potere, perché poi alla fine votiamo, ma se fossimo un po' più capaci di ragionare e più indignati, ma in un momento io non avrei nella mia regione turcuffara a governarmi, e che fa la festa con i cannoli perché è condannata in parte, poverino, per corruzione sì, per l'associazione mafiosa no, cioè voglio dire, ho un avvocato che si permette di gridare vai nel momento in cui Andreotti ha avuto una sentenza di prescrizione, dove la sentenza dice che lui aveva avuto rapporti, dove abbiamo avuto Ciancimino che ha saccheggiato la città di Palermo, dove abbiamo avuto Lima, Salvo Lima, deputato europeo, cioè questo è quello che noi abbiamo in mano, ecco abbiamo in mano questo, forse non lo capiamo che la via mi vanno, e questo è un limite. Questo volevo aggiungere su Lima e tutti quanti, tutto ciò che è successo, il vero miracolo è che quanto la mafia riesce a influenzare l'opinione pubblica, crearsi il suo proprio immagine, perché questo fatto, che questa banalità, che un mafioso è gentile, coadiale, eccetera, che possa ancora riprodursi, questo veramente, io lo trovo tuttora allucinante, però non è, loro controllano questo, gli investimenti, il lavoro politico, eccetera, una cosa, però loro riescono anche a controllare le loro immagini e fare una propaganda continua, la mafia fa una propaganda continua, dunque io, come giornalista, sono la prima che voglio, che mi interessa questa cosa, in Germania, per esempio, una cosa molto interessante, che pochi sanno, sono riusciti a vendere la musica della mafia, e non solo in Germania, ma anche in Olanda, in Inghilterra, in Francia, in America, un grande successo, allora, questo produttore della musica della mafia vive da Hamburgo, in Calabrese, e lui è riuscito a far venire gentilmente un sacco di giornalisti che facevano, si occupano di musica, ovviamente, dunque non sanno nulla, già i giornalisti tedeschi, stranieri, in generale, non sanno nulla sulla mafia, e ancora meno quello della musica, dunque fa venire un giornalista della musica vicino a San Luca, dove, allora, questo mi piace molto ai giornalisti, un piccolo brivido, allora io faccio adesso una storia sui mafia, incontro anche boss, come la mafia fosse un piccolo popolo tipo Chappas, che non vogliono altro che ballare e cantare nel loro nascondiglio, e tutti questi, c'erano articoli, Newsweek, Le Monde, Die Zeit, anche, che non è scritto ovviamente da me, lo Spiegel, in tanti giornali, cioè i più grandi giornali del mondo, in cui hanno scritto praticamente anche questo, la mafia buona, la mafia cattiva, che è una cazzata, che non è mai esistita, la mafia non è mai, non è mai stata buona, mai, l'onore non è mai esistito, hanno sempre ucciso donne e bambini, però riescono e ci tengono a sempre riprodurre la loro propaganda, che lo fanno oggi su Facebook, e questo lo trovo molto interessante, che ancora, questa è la cosa più importante che bisogna distruggere, questa immagine della mafia, romantica, folcloristica, e che non è solo, di questo non sono solo vittime i tedeschi, ma anche gli italiani del nord, perché quando si fanno film come Totorina, come si chiama, Boss del Boss, c'è anche un'immagine romantico di questo grande potere che lui esercita, e di far capire che la mafia è solo una cosa come uno poverino che viene trovato in un nascondiglio in una piccola casetta che fa formaggi e si viene trovato con i santini, che queste sono cazzate, scusatemi i termini, però non è vero, però la mafia ci tiene molto, dunque le cose che noi vogliamo credere sulla mafia è quello che vorrà, far capire la mafia e questa è la prima cosa dove bisogna rompere anche. Buonasera, la mia domanda va alla signora Petrareschi, volevo sapere come si fa a vivere una vita normale sapendo che si può, perché lei scrive alla pagina 25 che come sempre mi ripropongo di lavorare ancora un po' durante il volo e comincio a sfogliare i miei materiali d'archivio, poi tiro fuori dalla borsa il libro sul mistero dell'agenda rossa del giudice Paolo Borsolino. Appena lo apro ho subito l'impressione che qualcuno mi lega dietro le spalle. La magna di persecuzione siciliana mi assale prima ancora di arrivare in Sicilia. Come fa lei a vivere questa vita sapendo che hai gli occhi puntati su di sé? Voglio capire. Ma io sono anche paragonato con tutti i giornalisti siciliani napoletani calabresi sono molto fortunata perché vivo a Venezia dunque io riesco ancora ho un piccolo distacco geografico tra quelli che vivono veramente sul territorio hanno molto più difficoltà di me. Diciamo che io mi sono sentita minacciata e molto molto male stranamente è veramente in maniera assurda in Germania quando sono stata a Duisburg e quando sono stata a Erfurt mi sono sentita molto sola perché allora in Italia perlomeno quando parlo di mafia per esempio lei ovviamente lei ha capito ognuno probabilmente qui in sala ha capito cosa è una minaccia mafiosa invece quando sono stata in Germania e quando mi è successo di essere minacciata i tedeschi non lo capiscono dunque poi di essere davanti al tribunale è stata per me un'esperienza molto umiliante perché io ho scritto il libro anche con un certo impegno anche per la Germania per avvertirli di quello che sta succedendo dunque di essere umiliata in un tribunale tedesco è stata per me un'esperienza singolare che non dimenticherò mai e mi sono sentita molto sola in Germania in particolar modo perché in Italia almeno grazie a tutte queste organizzazioni come Libra come Flair ci sono un sacco di organizzazioni che subito si sono dichiarate solidari con me e questo non avrei mai pensato di trovarmi in una situazione del genere che una dichiarazione di solidarietà potesse rendermi felice eppure era così e questo è stata veramente un'esperienza singolare di trovarmi più protetta in Italia alla fine perlomeno sul piano psicologico che in Germania perché sì lì pochi erano solo a capire quello che è successo perché in Italia uno potrebbe dire per tutte le carenze che ci sono però almeno c'è una coscienza di cosa è la mafia cosa significa e quello che in Germania manca dunque ancora peggio sì poi in tribunale io ho dovuto fare ripetutamente fare lo spelling di drangheta perché nessuno dei giudici ma io lo trovo veramente allucinante che un giudice tedesco non sa neanche non sa cosa è ancora meno di scriverlo dunque hanno il gioco molto facile e io vi assicuro quando tu sei in tribunale e hai questi personaggi davanti che ti ridono in faccia non è una cosa difficile facile da dimenticare grazie 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 a tutti grazie a tutti